Nomi noti come Ciorelli e Spinelli ma anche Gianni di Petrantonio figurano tra i 20 arrestati questa mattina nel quartiere Rancitelli. È la prima volta che a Pescara si parla di associazione di stampo mafioso riferita a un gruppo composto da nuclei familiari autoctoni per gran parte di etnia Rom. L'operazione è iniziata intorno alle 5.30 visto impegnati i carabinieri dal comando provinciale di Pescara che hanno eseguito 20 ordinanze di custodia cautelare per il 416 bis ma anche per altri reati cosiddetti satelliti come l'estorsione, il possesso di armi ed esplosivi, il traffico illecito di sostanze stupefacenti, il tentato omicidio, il danneggiamento aggravato, l'accesso in debito a dispositivi idoni alla comunicazione da parte di soggetti detenuti, la minaccia aggravata e la truffa. C'era un controllo molto rigido, molto violento e che ovviamente imponeva a tutti i bravi cittadini del quartiere di Rancitelli e anche di Ferro di Cavallo un'assoluta cappa di omertà per cui nessuno denunciava nello specifico e quindi è stata abbastanza complicata perché non abbiamo avuto l'intervento di nessuna dichiarazione o di collaborazione da questo punto di vista. La base operativa del Ferro di Cavallo ha subito un'evoluzione, non è più solo centro di spaccio ma una base di controllo vera e propria del traffico degli stupefacenti con accordi di cartello che fissano il prezzo in tutte le piazze di riferimento. Il gruppo poteva gestire l'ingresso delle sostanze nel carcere di San Donato, uno dei leader lo ha ristretto, riusciva a imporre i suoi ordini grazie all'utilizzo di un telefono. La misura cautelare è stata richiesta dal GIP della Direzione Distrettuale Antimafia dell'Aquila all'esito di una lunga impegnativa indagine durata quasi due anni. L'associazione si è spesa anche nel corso del periodo monitorato per cercare di indurre i testimoni di alcuni processi per fatti omicidari a recedere dall'intenzione di collaborare o di testimoniare. Quindi si è spesa perché quelli già detenuti avessero delle condanne meno pesanti. In questo contesto si inquadrano una serie di incendi, di autovetture e di atti estorsivi che sono anche passati alla cronaca, anche con interventi mediatici nel tempo.